Individuati responsabili dell'aggressione commessa il 31 maggio scorso ai danni di un ragazzo refertato poi in ospedale con 30 giorni di prognosi nei pressi di uno stabilimento balneare sul lungomare di Pescara. Al termine di un'approfondita attività di indagine portata a termine dagli agenti della divisione di polizia anticrimine della questura di Pescara, il questore Luigi Liguori ha disposto la misura di prevenzione delle DASPO Willy nei confronti di due fratelli pescaresi. Noi siamo di questo avviso di dare questo segnale preciso affinché la nostra estate prosegua e abbia inizio e prosegua nella massima tranquillità ma con un dispositivo di sicurezza che viene calibrato di volta in volta è necessario a contenere questi episodi anche gli altri episodi di cui ho parlato prima di lite tra ragazzi o di accampare la gestione di un campo di calcio con la violenza sono cose che assolutamente non vanno tollerate e saremo intransigenti. Non uso quel termine tolleranza zero perché è stato mutuato una ventina di anni fa da altri sindaci o altre autorità di polizia. Anche le sanzioni covid sono fortemente diminuite nonché perché nelle ultime tre settimane ne abbiamo 48, l'ultima settimana nessuno. Noi stiamo tenendo conto di quello che è la realtà della città, i cittadini devono poter conto però dei compiti di polizia.